Siamo con Sir Vulcan al via con quattro penalità delle prime due prove del criterium dei quattro anni. Sir Vulcan è un maschio vaio figlio di Michael Brown e Yuma, da due, la proprietaria, la sessa Corinna Griveta Lossia. Il risultato della prova di altitudine di Gianluca Nebuloni e Bucefano Nero, per lui i punti sono 83,25. Un avviso per quanto riguarda la premiazione del criterium 4, 5 e 7 anni. Le tre premiazioni si terranno al termine della terza prova del criterium 7 anni, circa quindi alle ore 11.45 le premiazioni dei primi tre criterium visti fino a quel momento. Risultato per Cristiano Perrando e Godilonda, 91 punti. Grazie. 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 Grazie a tutti.